E' certo, è arrivato, è certo, a me non me ne frega un cazzo, non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa più, ok? No, perché come sto a leggere su vari gruppi Whatsapp, ecco, qui a Roma non sappiamo valorizzare i giovani, c'era questo fenomeno e non l'abbiamo capito. Allora, ragazzi, Schick, adesso non lo so, probabilmente avrà completato un percorso di maturazione, a parte che credo in Bundesliga abbia fatto 8, 9, 10 gol al massimo, manco la metà di quelli che ha fatti il pennellone di ieri sera, quindi voglio dire, non è che è sto fenomeno, adesso è diventato lì, adesso ha trovato la maturità e è diventato un fenomeno. Non mi pare, non mi pare, sicuramente è un giocatore molto tecnico, un giocatore che ha dei numeri, un giocatore che ogni tanto gli esce fuori, è il colpo del genio, a me, tra parentesi, è piaciuto molto di più il primo gol, perché il primo gol esalta le qualità dell'attaccante puro, elevazione, anticipo sul difensore, spizzata e pallone all'angolina, a me è piaciuto molto più quello. L'altro, certo, se sei un giocatore tecnico, comunque, perché c'ha un sinistro non male, veramente non male, e c'è lo specchio dalla porta vuota, te viene insomma, lo fece anche Rissitelli in un Roma-Lecce, nella stessa partita lo fece Feller, abbiamo fatto due pallonetti in un Roma-Lecce nel 1990, ok? Quindi tipo 4-5-0, me ricordo. Quindi voglio dire, è normale, se sei un giocatore tecnico e c'è lo specchio dalla porta vuota, fai il pallonetto e entra, sì, bravo, bel gol, però insomma non è che deve venire giù lo stadio per questo. Io non rimpiango Schick, perché io me lo ricordo a Roma, è stato quanto? Un paio d'anni? Moscio, flemmatico, noiannava, una fregna moscia, era molto più fregna la sorella, non moscia, lui proprio niente, un ectoplasma a mezzo al campo, con quegli occhietti così, che manco ci vedeva, dice vabbè ma non è stato fatto giocare con continuità. No, 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 errore, errore, perché in una stagione mi sembra la seconda, mi sembra la seconda, proprio quella forse che ci ha portato in semifinale di Champions League, mi sembra che a un certo punto della stagione, tipo intorno a novembre, dicembre, lui comunque ha avuto l'opportunità di giocare a sei partite consecutive in campionato perché Dzeko si era fatto male, un ectoplasma. Per cui io non me lo rimpiango assolutamente, non vi voglio sentire manco a voi che ve lo rimpiangete. Adesso noi cerchiamo altri profili dei garciatori, gente cattiva, gente affamata, gente brutta che quando lo vedi, capito, dice proprio, ti mette già paura a vederlo, quello è il tipo di attaccante che voglio, gente che te mossica. No, chicca, ballerina di danza classica, ok? Ha fatto bene, bravo, hai fatto i gol, ecco, statene là, tu e i tuoi gol.